Sono tornati a casa in San Nicolò i due quadri del 600 rubati il 21 febbraio del 2018. A ritrovarli, dopo quasi un anno di indagini, i carabinieri del Nucleo Patrimonio Culturale di Firenze, che questa mattina hanno riconsegnato le opere d'arte. Le indagini sono andate in relazione alla tempestiva denuncia che è stata fatta dal Conservatorio, dalla Fondazione. E soprattutto hanno avuto uno sviluppo favorevole in funzione del fatto che queste opere erano state adeguatamente catalogate. Dopodiché sono iniziate le indagini, quelle tradizionali, che ci hanno permesso di analizzare alcune riprese video. L'analisi dei filmati, supportati poi con ulteriori attività di indagine, ci ha permesso di individuare questo soggetto e l'ulteriore sviluppo dell'attività investigativa risalire a quelli che erano stati i passaggi successivi al furto e recuperare due opere. Il primo quadro, Una Sacra Famiglia, è stato ritrovato dopo tre giorni, senza più la cornice originale, a casa di un collezionista fiorentino. Mentre il secondo, Unecce Omo, è stato rintracciato lo scorso ottobre sempre in una casa privata. I nuovi proprietari hanno acquistato i quadri senza sapere che fossero frutto di un furto. Denunciato invece per ricettazione l'antiquario fiorentino che ha venduto le opere d'arte. Ad accorgersi della mancanza dei quadri sono stati i bambini dell'asilo, che hanno notato uno spazio vuoto sulla parete del refettorio della scuola. Il ladro ha letteralmente strappato la Sacra Famiglia dal chiodo di sicurezza a cui era appesa, per poi avvolgerlo, insieme a Unecce Omo, in un sacco nero e uscire indisturbato dal vicolo del Tignoso, dove le telecamere lo hanno immortalato. Grazie al nostro supporto e al lavoro efficiente del nucleo, oggi abbiamo il piacere di riportare a casa queste due opere.